Macro categoria imprese, categoria sostenibilità. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Sostenibilità and Leadership Green Economy. La motivazione per essere la prima iniziativa italiana che coniuga una filiera strutturata con l'attenzione per il pianeta e per i territori attraverso la coltivazione del bambù gigante, per la leadership nella creazione di foreste a scopo industriale e la forte crescita che la sta già portando verso la quotazione in una borsa europea. The winner is Forever Bamboo e chiamo sul palco accanto a me il presidente e fondatore Emanuele Rissone, eccolo che arriva, a cui vanno tutti i nostri complimenti, naturalmente a lui in prima persona, a tutto il team, questo è il vostro premio. Bellissimo, grazie mille. Siamo veramente orgogliosi di ricevere questo premio oggi. Ottimo, la invito a accomodarsi perché l'orgoglio sicuramente è tanto, come ha detto lei. Le chiedo un commento a caldo anche spiegandoci che cosa significa questo premio, questo riconoscimento per voi in un momento anche particolare. Beh, significa tanto questo premio. Oggi Forever Bamboo dopo sette anni da quando abbiamo avuto l'idea di portare in Italia e in Europa questa pianta così esotica, che tutti conoscono in Asia, portarla qui è stato un po' essere avvenieristici, siamo stati dei pionieri in questo campo. Nel 2014, quando abbiamo iniziato questa attività, poco si parlava di bambù gigante. Adesso siamo molto orgogliosi di ricevere oggi questo premio, ma di dire anche che di bambù gigante tanto se ne sta parlando. Perché è una pianta meravigliosa che ha un'ecosostenibilità infinita. Dalle applicazioni numerose, dall'alimentare all'abbigliamento, si possono fare accessori, potremmo fare dei pavimenti. E noi come azienda stiamo spingendo tantissimo sulla creazione di queste meravigliose bioplastiche. Quindi, come dire, sull'ecosostenibilità noi ci crediamo tanto. Abbiamo anche uno studio molto importante, realizzato tra il 2019 e il 2020, appena pubblicato, dove dimostriamo che le nostre foreste, pensa, sequestrano la bellezza di 36 volte una normale foresta. Quindi noi depuriamo l'aria dalla CO2 36 volte tanto. Questo, solo per darvi un dato, significa che le nostre 200 ettari di foresta depurano la nostra bella nazione come 7200 ettari di foresta. Quindi iniziamo a fare la nostra parte. Lei ha detto che siamo stati pionieri, effettivamente verrebbe da dire che parlando di sostenibilità e green economy, di cui adesso si sta parlando sempre di più, avete agito in tempi non sospetti. Quando ancora, sì, le tematiche si sapeva fossero importanti, ma non così a livello operativo. Quindi diciamo che questo anno, appena trascorso, ha dato un'accelerata ulteriore a questi processi e soprattutto a questo punto poi vediamo nel futuro quali sono i primi passi, anzi, quelli che già state facendo, che però vi porteranno a guardare ancora più oltre. Allora sì, i primi anni, i primi 5-6 anni sono serviti per strutturarci. Come hai detto, una cosa giusta, l'ultimo anno passato e quello in corso in realtà sono state un'accelerazione importante. Un'accelerazione che ci sta preparando per una quotazione, che noi riteniamo essere un traguardo importantissimo. Oggi siamo a Borsa Italiana, quindi siamo nel luogo giusto per parlare di quotazioni e credo che Forever Bamboo diventerà veramente la quotazione dell'anno, quando nel 2022 la affronteremo. Le stavo chiedendo proprio il timing, quindi 2022 e quindi insomma vi permetterà di sviluppare ancora più progetti con una forza diversa sicuramente, un prestigio diverso anche. La quotazione ci darà più visibilità. Oggi abbiamo tantissime famiglie, oggi mentre parliamo noi abbiamo già 1050 famiglie socie di Forever Bamboo, quindi è un bellissimo traguardo. Però la quotazione ci permetterà di parlare a una platea più ampia. Siccome ciò che facciamo lo facciamo per noi, io sono un imprenditore, ma sinceramente lo diciamo in ogni intervista, lo facciamo anche per i nostri figli e per le generazioni future. Ecco, è bello coinvolgere più persone possibile in un'azione positiva verso il pianeta, come quella di Forever Bamboo. Insomma la risonanza sarà sicuramente diversa, però visto che lei mi ha parlato della quotazione l'anno prossimo, nel 2022, mi auguro che sarete sullo stesso palco dei nostri Le Fonti Awards per raccontarci cos'è cambiato e soprattutto quali ulteriori spunti vi darà questa quotazione. Perché no, da qua all'anno prossimo, vista la velocità con cui stiamo crescendo, avremo tantissimi spunti di cui parlare. Non ultimo questa meravigliosa bioplastica che da qui a un anno saremo pronti a lanciare. Insomma l'obiettivo è rimanere una delle eccellenze del nostro paese, su quello non si scappa. Noi siamo Made in Italy, siamo un gruppo di italiani, comperiamo terreni italiani, facciamo foreste italiane e diamo da lavorare a tantissime famiglie di tutte le etnie, però diciamo che compongono l'economia italiana, perché a noi piaceva tanto il Made in Italy. Complimenti quindi a Forever Bamboo per questo premio e naturalmente grazie a Emanuele Rissone, presidente e fondatore per averci raccontato qualcosa di più. e a presto quindi su questo palco per i Le Fonti Awards. Grazie a voi, spero di rivedervi presto, mi prendo il premio Tanto Ambito. Direi di sì, è vostro. Grazie. Grazie.